Contro il colesterolo la scelta del cibo è fondamentale, ma non basta. Per questo ho l'abitudine di usare il metabolismo del colesterolo di BodySpring. I suoi ingredienti naturali aiutano a mantenere i fisiologici livelli di colesterolo. BodySpring è primavera del corpo. Scopri sul sito tutte le risposte naturali di BodySpring. In farmacia.